L'industria del turismo sembrava pronta ormai a ripartire, superati i momenti più critici dovuti alla pandemia, ma purtroppo un settore già gravemente indebolito ha subito un duro colpo con la guerra in Ucraina. Le aree costiere della Campania temono ora contraccolpi negativi per l'assenza dei turisti russi, che rappresentavano il secondo gruppo più numeroso dopo i tedeschi nelle isole di Ischia e Procida. Noi per esempio nel mercato di nostra competenza di Federale Verdi, quindi Ischia e Procida, possiamo dire che il mercato russo e anche quello ucraino rappresentavano nell'ambito internazionale la seconda realtà dopo quello teutonico tedesco e che si apprestava intorno all'11-13%, compreso anche quello ucraino. Timori per l'assenza dei russi anche in costiera amalfitana. Non riscontriamo ancora un drastico calo delle prenotazioni. Ovviamente questo è un ragionamento fatto su base provinciale, ci sono delle zone più influenzate dalle prenotazioni specialmente di russi, quali ad esempio la costiera Amalfitana, quindi Amalfi, Bositano, Ravello. Ovviamente monitoriamo l'andamento, si spera che tutto finisca il prima possibile e che ritorni la pace. Gli operatori del settore sperano però di compensare con la maggiore presenza di turisti inglesi e americani. Speriamo di optare anche per nuovi mercati come quelli che comunque si erano già aperti in passato o prima della pandemia e quindi mi riferisco anche a quelli inglesi e americani. Grazie. Grazie.